Sono veramente contento che parta da Montevideo e da questa ambasciata. Abbiamo un obiettivo, incontrare quelle persone che dedicano la loro vita aiutando il prossimo. Non sarà un viaggio facile, attraverso quattro paesi dell'America Latina, passando dall'oceano alle Ande, tra deserti, montagne ed infiniti orizzonti, per conoscere e comprendere. Abbiamo cucinato 450 racioni per i bambini, per i bambini e per la famiglia vulnerabile del barrio. Ho 10 anni ho lavorato con persone in situazione in calle, con il desayunatore che apprende alla barria di Glarca e venivano caminando questo tempo. Siamo arrivati adesso alla Caritas di Anatuscia. Siamo arrivati. Grazie 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 Es increíble esta obra social en la que la iglesia está metida, a través de las caritas parroquiales, cada parroquia organiza su centro de solidaridad con la gente más empobrecida de las parroquias que normalmente no se visibilizan. Viajo in moto ti 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 passo a reflettere Il polvo e il vento vieni per ti E le pensieri si ottenerano completamente di ti Tutte lo che viste e la gente che conosci In 힘들 Grazie a l'ospitalità. Grazie a tutti. 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 e questo è quello che ho pensato per i momenti lavorare lavorare poter comprare le cose al bambino che è quello che io più voglio dare una vita più migliore 10.000 km con una moto e ancora non sonata per dare una voce per dare una cara a quelle persone che in silenzio prendono la vita per dedicarla al altro 10.000 km per queste persone Anonymous 10.000 km 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 Grazie a tutti.